Ciao lettori elettrici di MamaStyle e benvenuti in un nuovo video. Ormai le temperature sono altissime e il sudore soprattutto di notte tende a bagnare e a macchiare i nostri cuscini e il nostro materasso. Noi però di MamaStyle abbiamo trovato dei metodi che potrebbero risultare davvero utili per eliminare le macchie gialle dal cuscino. Tra questi troviamo sicuramente due. Vediamo insieme quali sono. E un grande alleato nelle pulizie serve a sbiancare, disinfettare e sgrassare gli oggetti. Sto parlando dell'aceto bianco. In questo caso possiamo mescolare metà bicchiere di aceto bianco e metà d'acqua. E mettere tutto all'interno di un contenitore con beccuccio spray. adesso prendete il cuscino e iniziate a spruzzare la soluzione su tutte le macchie gialle di sudore. Grazie a tutti. Adesso non vi resta che lasciare agire per circa un'ora. Dopo lasciate asciugare al sole e vedrete subito i risultati. Come sempre se ti va lascia un like e iscriviti al nostro canale. Ciao. 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 Ciao.